Stiamo girando le ultime scene all'interno del teatro Dragoni di Meldola e grazie al Comune di Meldola abbiamo la possibilità di essere qui in questa bellissima location e il film giunge con quest'ultimo giorno alla sua conclusione ufficiale. Il suo futuro sarà quello di giungere nei principali concorsi e poi speriamo una distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche e magari il nostro sogno più grande è che questo film possa giungere non solo sul grande ma anche sul piccolo schermo. Questo è quello che tutta la produzione si augura. È stata una bellissima esperienza, davvero entusiasmante con l'aiuto di un sacco di persone tutte insieme nel fare qualcosa di bello, un bel messaggio di fratellanza, di cooperazione in un mondo che in questo momento ne ha secondo noi sinceramente bisogno.